Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui con FIFA 14, il nostro Ermenigildo Braciolone una panchina che sta iniziando a diventare un po' precaria dopo due sconfitte consecutive, una in Coppa e una in Campionato adesso giochiamo la prossima partita in casa, questa volta contro il Barton, andiamo allora abbiamo offeso brutalmente l'altra squadra ma questo non fa niente andiamo con la nostra squadra che adesso andiamo un attimo a vedere in che condizioni siamo abbiamo cercato di ingaggiare un nuovo futuro pendolino, si potrebbe rivelare il nuovo Cafu o Serginio vedremo, o magari un salame, ma non credo che possa venire la nostra squadra perché comunque abbiamo visto che non abbiamo un granché di possibilità economiche, dobbiamo cambiare tutta la squadra perché sono tutti morti o morenti comunque, vediamo un attimo cosa ci possiamo mettere, nessuno perché non abbiamo niente allora un attimo, facciamo un attimo di cambiamenti, come detto non si va a guardare anche poco le caratteristiche, non per altro ma per il semplice fatto che non ne abbiamo di giocatori quindi, cioè di possibilità cioè questi li abbiamo sostituiti tutti, quindi noi possiamo fare moltissimo mettimi Samson, che secondo me potrebbe fare del suo meglio in questa partita un terzino sinistro non ce lo abbiamo, non abbiamo nessuno perché non ci mette un portiere, non credo che possa essere ah, abbiamo un terzino destro, mettici il terzino destro, che ce ne fregano il destro sinistro per noi è tutto campo, tutto campo la sportiveggianza prevede che ognuno possa fare qualunque cosa cioè se potete pescare la notte e poi andare in campo perché non potete fare terzino destro e terzino sinistro intercambiabile, quindi possiamo proseguire con la nostra modalità carriera allenatore braciolone tra parentesi per adesso come detto io, un po' gli storie ci sono di seguito poi magari vedrò anche quello che mi state dicendo magari a livello di difficoltà io come detto per adesso vorrei proseguire un po' giocando così possono scordarsi le prime posizioni della classifica senti, allora per favore, abbiamo anche questi becchini che proviamo, attenzione eh, attenzione veramente mamma mia, c'era quasi arrivato ma chi è quel biondone che è corso? scusi biondo, dica mi facci sapere il suo nome che magari la met... guarda questi guarda questi che magari la metto sulla fascia allora secondo me era questo, giusto? no, cioè quello McGoan McGoan, attenzione attenzione McGoan numero McGoan ti sei rimangiato tutto vabbè abbiamo un po' esagerato noi possiamo fare tutti questi controlli di palla McGoan corri corri McGoan vai scatta così bravo li abbiamo distratti perché noi puntavamo a McGoan c'è qualcuno non lo so, io ho cross nel dubbio cross forse è una parola grossa ma questo è quel cazzo di maledizione che abbiamo comprato tu ci costi 5000 euro a settimana quello che è comunque ti costi troppo quindi secondo me questo è il prima possibile ci lo leviamo il mercato di gennaio via il il coso là il giocatore farlocco ci compriamo uno decente magari guadagniamo no non è vero perché mi sa che a gennaio non te li fa vendere quelli che ha appena comprato nel mercato tipo estivo ci vediamo ci vediamo attenzione attenzione canyon canyon scatta non ce la fa non ce la fa ragazzi io farei una cosa tecnico-tattica io faccio un azzardo aspettate adesso un attimo che sta succedendo un macello ma va bene non è vero non riconquistiamo niente cioè stiamo giocando a spallate non è che stiamo giocando a calcio tutti di faccia te lo dico io ma che facciamo mcgowan questo qui terzino sinistro 48 però andava come una freccia quindi lo metto al posto di questo qui canyon che secondo me è un salame infatti c'ha 46 ma va bene canyon tu che puoi fare nella vita a parte il pesca ah questo era quello con la faccia sveglia che diceva mi sento informissima ma vaffanculo va qualche partita fa non so se vi ricordate vabbè comunque con quella faccia lo possiamo mettere solo in difesa ma proprio laterale di lato così magari qualcuno non si accorge di lui e non ci passa da quel lato speriamo e nel frattempo cerchiamo di sfruttare mcgowan attenzione è solo è solo ketry ketry attenzione attenzione ce la può fare mamma mia ma questo è il primo gol cioè il primo gol del nostro morecambe fishing club attenzione il il nostro nuovo attaccante che volevamo adesso subito vendere grandissimo 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 non ti vendo più eh ti sei cacato sotto che ti mandavo a confezione ai ravioli al vapore di nuovo eh lo sai attenzione mcgowan vediamo se eh se questa scelta si rivelerà fruttuosa dalla mcgowan che scatta come un leprotto vai mcgowan mamma mia ci prova ci prova mcgowan cross c'è samson eh però porca puttana cioè samson è alto però c'ha la testa cubica quindi se prende lo spigolo giusto magari la può indirizzare verso la porta ma la maggior parte delle volte buona attenzione eh attenzione che cazzo sta succedendo comunque quello lì è veramente mcgowan è diventato titolare centrocambista anche se lui è un terzino sti cazzo tanto noi come detto non è che stiamo guarda là guarda là mamma mia abbiamo scoperto un fenomeno un fenomeno cross al centro samson tira poppa mia poppa mia doppietta è lui è lui mamma mia cioè si risveglia il morecambe fishing club attenzione morecambe fishing club è lui attenzione alla terza partita cioè la terza partita no è la quarta perché la prima ha fatto qualcosa una di campionato mi sarebbe giocata con un pareggio poi coppa persa campionato persa e questa attenzione 2 a 0 il morecambe fishing club forse abbiamo trovato una squadra più scarsa di noi attenzione tutto campo tutto campo tutto campo può andare solo può andare solo può andare solo secondo me non va attenzione attenzione ce la può fare è morto è morto vacca puttana allora volevo volevo fare tante cose come passarla però c'era quello che copriva quindi ho tentato di fare un colpo sotto l'incrocio ma giustamente questo che cazzo ne sa dell'incrocio già tanto che ho detto che due golloni mamma mia guarda lì attenzione questi sono più forti noi negli stop è mano quella è mano giovanotto diga porca mignotta attenzione ma questo è un fenomeno si è risvegliato dopo che l'ho detto che lo mandavo ma non è lui ma è lui ma veramente si è cagato sotto quando gli ho detto che lo mandavo a mangiare a fare i ravioli attenzione ma mamma mia ma io mi stupisco che cosa è successo a questo che chierci come cazzo si chiama scusi attenzione ma forse sono loro scarsi probabilmente ora vorrei dire niente però secondo me è stato quel coso che gli abbiamo detto che lo mandiamo a cucina e cose al vapore si è cagato sotto oddio quello stava svenendo ah vabbè era quel salame canyon si ha delle difficoltà è giusto così ragazzi siamo ancora esperto se qualcuno avesse i dubbi non è che cambio difficoltà come detto io proseguo su esperto fino a quando andiamo poi non ho problemi a cambiare difficoltà se ci prendono a pallonate ma qui siamo ancora esperto mi sta sorprendendo anche a me questa situazione cazzo è successo partire da senso unico non esageriamo forse questo questa squadra è molto più è possibile che sia molto più scarsa della nostra perché molto più scarsa della nostra visto che noi abbiamo una stella mezza stella non ce l'aveva nessuno tra quelle che abbiamo visto nel nostro campionato attenzione mamma mia attenzione chi è questo sta dribblando tutti oddio attenzione mi devo informare comunque sulla sua nazionalità perché sul tipo orientale lì vorrei capire se attenzione eh no vabbè Samson è solo un tipo da centro area ma poi non è che posso fare dov'è il quello che scatta sulla fascia questo è l'orientaleggiante che crossa oddio incornata incornata attenzione questa partita si sta mettendo benissimo comunque a parte che comunque credo che adesso mi sta venendo il dubbio attenzione un momento un momento in questi momenti porca mignotta che la difficoltà si vede vabbè giustamente quando va a caricare la partita se non sbaglio c'è scritto io lo specifico perché sembra ogni tanto qualcuno che se ne esce con i commenti random allora ogni tanto va specificata qualcosa però come detto si vede dal caricamento della partita quindi se non sbaglio dovrebbe essere lì la difficoltà comunque come detto per adesso ho intenzione di proseguire su esperto poi vedremo non so per quale motivo c'è stato questo esploat anzi io direi di fare anche ma secondo me questi sono veramente scarsi cioè proprio loro guarda là cioè dai mamma mia certe cose non le avevamo mai viste stop sostituiamo un po' qualcuno ragazzi perché visto che qua ci sta una partita ogni due giorni avete fatto porca mignotta avete fatto una bella partita però un po' riprendetevi godetevi il meritato riposo questo lo togliamo perché questo ormai sarà il nostro pendolino su quella fascia quindi quello che abbiamo comprato magari sull'altra fascia possiamo fare una cosa spettacolare se quello viene ma non credo che viene perché gli abbiamo offerto troppo poco stipendio effettivamente però sarebbe stato utile avere quei due sulle fasce poi il problema è avere uno in centro perché samson a questo punto sto vedendo che non è proprio così fortissimo cioè è alto ma non c'ha fila attenzione ma comunque vabbè a parte no ma penso che siano proprio loro scarsi ragazzi perché perché comunque attenzione attenzione ci prova sì sì sono scarsi tra l'altro attenzione buttate fuori la palla che magari facciamo sta sostituzione ma sfugge all'intervento in scivolato da c2 se no ci stiamo qua scusi dica potrebbe buttare fuori la palla c'è gente che sta morendo in campo qui jimmy phillips oppela attenzione attenzione addirittura vedremo e va bene così per noi così attenzione scatta scatta non ce la fa non ce la fa più attenzione e vacca puttana allora vogliamo buttare fuori questa palla mi state facendo morire distenti il mio attaccante attenzione niente ok la difficoltà si sta iniziando a far sentire eh meno male no no aspetta questi non ci vogliono far fare la sostituzione attenzione 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 via via cambio cambio stanno morendo stanno morendo se no la prossima partita questi non ci arrivano proprio fisicamente comunque ragazzi mamma mia abbiamo fatto un primo tempo clamoroso veramente clamoroso ah quindi ma scusate aspettate quello ha fatto quattro sostituzioni ma non è che qua in quarta serie si possono fare più sostituzioni no sostituzioni tre o non so se è stata un'impressione mia ma io ne ho viste quattro che ne ha fatte quella però sfuggita comunque è stato un primo tempo devastante cioè dopo la minaccia di rimandarlo attenzione porca puttana ma gli ha sbattuto sulla mano maledizione si ho messo il fallo di mano anche in area cose di solito stanno disattivate ma mi piace metterli perché se no i rigori non ci staranno mai attenzione vai portier siamo tutti con te vabbè che siamo tre a zero attenzione quando ci ricapita il morecambe fishing club la prima partita primo gol seguito subito da altri due dal nostro neo acquisto made in made in Asia attenzione attenzione mamma mia no 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 ok va bene così questi sono veramente più scarsi di noi non facciamo queste questi rimbi random però dalla lì dalla lì comunque anche questo è muazil ma cazzo si chiama credibile ragazzi ci siamo ripresi nel finale cioè nel finale nel sì gli avversari non sono mai riusciti a metterli in difficoltà nel primo tempo nella prima parte ci siamo ripresi subito dopo una partenza di campionato un po' disastrosa comunque a questo punto ragazzi direi che ci possiamo salutare qui magari andiamo un po' avanti per vedere se ci arriva qualche offerta contro offerta ricevo dai ma non non ce li ho 8000 cazzo non ce li ho porca mignotta io gli risparo 4000 giusto per tenerlo ancora in attesa il fatto è che o rescindo il contratto a qualcuno io sto cercando di venderli ma posso anche capire che nessuno li voglia comprare su questo sono d'accordo però c'è un'altra partita contro offerta ricevuta cazzo e il problema è come come facciamo fronte a questa cosa trasferimenti ragazzi vediamo un po' se possiamo cacciare qualcuno dai fatte no guarda quanto prendono questi no ne devo cacciare 70.000 di giocatori no non posso fare niente a meno che non riusciamo a vendere qualcuno niente vabbè ragazzi comunque io vi ringrazio per aver seguito questo video noi ci vediamo con il prossimo la nostra prima vittoria con il morecambe FC Fishing Club naturalmente vedremo come andrà con la prossima partita anzi adesso subito prepariamo la nostra rosa con il nostro terzino che diventerà ma tra l'altro era anche non era proprio convoca cioè l'abbiamo scoperto è lui è questo qui lo abbiamo scoperto adesso perché prima non era proprio convocato comunque lo metteremo titolare noi ragazzi ci vediamo con il prossimo video e un saluto a tutti da quel taleale e un saluto a tutti